A Rezzo Città Sicura l'interrogativo si pone davanti alla testimonianza di questa signora che racconta quello che gli è capitato la scorsa settimana. Si credeva fino a poco tempo fa che il centro storico era una cosa un pochino più sicura e invece ho subito un furto il 24 ottobre e da quanto dice insomma la polizia da persone anche che conoscono molto bene per cui io credo che questa sicurezza stia venendo molto a meno. Lei ha subito un'autentica razzia anche? Sì, sì, hanno aperto la porta e hanno preso quello che hanno trovato. Davanti a certe situazioni naturalmente si ha un senso di impotenza? Si ha un senso di impotenza, sì, e la cosa più grave è che ci si sente dire che non si può fare niente. Io secondo me è inutile dire che non si può fare niente, se forse il cittadino a retino si unisce si fanno delle ronde, si viaggia intorno alle nostre strade e forse con armi civili si può dare un segnale.